Tutto è partito da Siracusa e facendo il giro di città in città, attraverso l'arresto dei diversi giudici e tra questi l'ex componente del CGA Giuseppe Mineo, a Scicli. Il filo è arrivato al capo di Forza Italia Silvio Berlusconi, che risulta indagato nella maxinchiesta della Procura di Roma su una serie di sentenze pilotate al Consiglio di Stato. Corruzioni in atti giudiziari, il reato contestato nel filone che fa riferimento alla decisione dei giudici con cui il 3 marzo del 2016 fu annullato l'obbligo da parte dell'ex presidente del Consiglio di cedere quote che deteneva in Banca Mediolanum, così come aveva stabilito la Banca d'Italia. Nello stesso procedimento risultano indagate altre tre persone, sempre per lo stesso profilo penale. Il capitolo che riguarda Berlusconi è solo uno dei filoni dell'indagine avviata da mesi a Roma, che di recente ha portato all'arresto di vari giudici, Nicola Russo del Consiglio di Stato, già coinvolto nelle altre vicende giudiziarie, l'ex presidente del Consiglio di Giustizia e Amministrativa della Sicilia, Raffaele Maria dell'Ipsis, l'ex giudice della Corte dei Conti, Luigi Pietro Maria Caruso. Destinatario dell'ordinanza, anche il deputato all'Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Gennuso. In totale sono cinque gli episodi contestati dai magistrati. In base agli accertamenti, le mazzette messe a disposizione dai giudici corrotti erano di 150.000 euro. L'indagine si basa sulle dichiarazioni fatte negli ultimi mesi dagli avvocati Pietro Amare e Giuseppe Calafiore. Arrestati nel febbraio del 2018 scorso nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta. Dichiarazioni riscontrate dai magistrati e inquirenti attraverso intercettazioni e analisi dei flussi finanziari. I giudici coinvolti, scrive il GIP nell'ordinanza, hanno posto a disposizione dei privati della loro funzione, contravvenendo ai doveri di imparzialità e terzietà e ricevendo in cambio un'utilità economica, e ciò indipendentemente dall'esito favorevole o sfavorevole delle decisioni assunte.